gentili telespettatori buona giornata beh un giuseppe conte tutto da ridere nel senso che non sa con chi si è messo giuseppe conte sapete che sta lì lavorando per entrare bene nel movimento 5 stelle presidente capo politico elevato capo del governo 5 stelle non si capisce bene cosa deve fare adesso chiede 3000 euro a ogni politico del movimento 5 stelle proprio i 5 stelle quelli che non vogliono pagare che sono morosi che che sono indietro coi pagamenti che si sono fatti buttare fuori ecco voi sapete che ogni partito dà dei soldi cioè ogni politico dà dei soldi al proprio partito in tutti i partiti italiani i politici prendono lo stipendio restituiscono chi 900 chi 500 euro chi non restituiscono danno chi 3000 chi 2000 chi 2002 proprio per contribuire al partito al suo mantenimento mentre è proprio i 5 stelle è uno dei partiti dove uno dei partiti dove maggiormente i suoi politici non pagano il loro movimento il loro gruppo politico elettorale e adesso ci si mette conte che forse non gli hanno detto che i 5 stelle sono i morosi per eccellenza nel parlamento sono quelli che proprio non vogliono pagare quasi in pochi hanno pagato il movimento 5 stelle continuativamente c'è che in ritardo di sei mesi un anno otto mesi adesso lui gli sta chiedendo 3000 euro un contributo così vertice con crimi e gli avvocati sul nodo rossò raggilo in calza per avere il suo sostegno dovete dargli tempo conte sbroglierà tutto nel movimento tiene banco la rifondazione del partito ma nelle ultime ore crescono ansie polemiche giuseppe conte sta lavorando senza sosta al nuovo progetto ma è costretto ad affrontare alcuni problemi la struttura del movimento 5 stelle che dovrà esserci in questi primi due giorni conte ha incontrato rocco crimi detto vito dagli amici che guida anche in questa fase il movimento al vertice hanno preso parte anche gli avvocati dei 5 stelle il tavolo secondo le indiscrezioni sarebbe servito per mettere appunto e capire cosa fare della struttura dei 5 stelle e cosa fare con l'associazione rossò il divorzio sembra più vicino o meglio è più vicino ai desideri dei parlamentari cioè vogliono vogliono cancellare via questa piattaforma perché i parlamentari 5 stelle non vogliono dare quei famosi 300 euro al mese ecco i parlamentari non vogliono dare i 300 euro al mese e giuseppe gliene chiede 3.000 in un colpo solo staranno facendo i salti di gioia i grillini no sono grillini staranno facendo i salti di gioia che bello vado subito a fare un bonifico di 3.000 euro immaginatevi i fumi che gli usciranno dalle orecchie ai grillini che già non vogliono pagare la piattaforma rossò 300 euro e conti gliene chiede 3.000 che praticamente quasi un anno anticipato del costo della piattaforma e così conte con crimi sta lavorando a delle soluzioni si dovrà passare su rosso per iniziare il nuovo corso e che beppe grillo sebbene sempre furioso con casaleggio continua a sostenere con i pentastellati che il debito verrà saldato quindi c'è un debito consistente con questa piattaforma perché molti moltissimi non pagano i 300 euro al mese e guardate che 300 euro al mese su 13.000 stiamo parlando di un 2 per cento del loro stipendio stiamo parlando del 2 per cento di un loro del loro stipendio un po come 20 euro per chi ne guadagna mille 40 euro per chi ne guadagna 2.000 ma intanto ci sono nuovi problemi per il giuseppi ci sarà il nuovo sistema di rendicontazione interna ogni parlamentare dovrà pagare 3.000 euro ogni mese ogni mese non è un aumento 3.000 euro al mese in questi 3.000 euro ci sono mille euro per il finanziamento del movimento e poi e qui ci sono verrebbero prelevati i fondi necessari per chiudere un accordo per quella che sarà la piattaforma di riferimento 2.000 euro di tagli di taglio agli stipendi per finanziare i progetti 5 stelle legati alle restituzioni le famose restituzioni che tornavano indietro al governo la cifra a due anni dalla fine della legislatura con buona parte della truppa quasi certa di non essere presente nel prossimo parlamento viene giudicata da diversi esponenti eccessiva perché la gran parte dei grillini con il vincolo del secondo mandato non saranno più candidati nel proprio per statuto dopo la seconda legislatura finita la carriera politica a casa capite che questi grillini si trovano adesso a dover pagare negli ultimi due anni dal loro stipendio fate conto che 12 mesi sono 36.000 euro in due anni sono 72.000 euro da qui alla loro licenziamento dovranno dare 72.000 euro che in alcune zone d'italia magari ci compri anche un appartamentino da affittare e avere una piccola rendita visto che sei fatto fuori dalla politica e nessuno ti si caricherà più infatti i grillini hanno sgranato gli occhi dice come da 13.000 devo toglierne 3.000 da dare al nuovo movimento di giuseppi vedre ne vedremo delle belle su questo in questo momento due parlamentari non sono in regola con le rendicontazioni quindi tra il 60 e il 70 per cento non sta pagando tutto quello che deve pagare e così nel 2018 cioè fino adesso dovevano pagare 2.300 euro adesso un bel aumento di ben 700 euro al mese cioè dovranno pagare 7.000 8.400 euro in più all'anno incredibile è difficile ipotizzare che cosa succederà adesso c'è qualcuno che dice che garanzie ci dà conte garanzie quello vuole i soldi quale garanzie vi deve dare insomma vedremo quello che succederà perché naturalmente i 5 stelle non vogliono pagare niente non vogliono proprio pagare anche perché sanno che tutti quelli che sono al secondo mandato che sono oltre il 90 per cento finito il loro lavoro in politica staranno già pensando che fare dopo magari si stanno mettendo da parte anche i soldini per finire di comprarsi la casa o per magari aprirsi un negozietto una gelateria qualcosa perché attenzione questi finiscono in mezzo a una strada e la gran parte finisce nella disoccupazione e che vanno a fare capite che dare 3.000 euro al movimento ogni mese insomma 3.000 euro non 30 euro 3.000 io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ringrazio per avermi ascoltato